L'impegno della Marina Militare nell'affrontare il fenomeno in migrazione è stato al centro dell'attenzione al meeting della Federazione Mondiale di Neurochirurgia, tenutosi dall'8 al 12 settembre a Roma in occasione del 60esimo anniversario della sua fondazione. Quale migliore tema che è quello che caratterizza anche i giorni nostri, che ha caratterizzato Mare Nostrum? Quale più grande istituzione come la Marina Militare per rappresentare un problema che non è solo umanitario, ma è anche un problema di grandi dimensioni geopolitiche e non dimentichiamo che questo è un congresso mondiale di neurochirurgia? Ritengo che questa occasione sia molto importante per rappresentare anche quali sono le perle di questo nostro paese da poter rappresentare alla comunità internazionale. Alla presenza di luminari provenienti dalle più rinomate società neurochirurgiche internazionali, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ha parlato dell'operazione Mare Nostrum, operazione che è diventata un modello in termini umanitari, ma anche di risoluzione delle emergenze sanitarie in mare per tutta l'Europa. Noi abbiamo messo in campo il 30% dei medici con chirurghi, con anestesisti, tutti i medici specializzati nella stabilizzazione di feriti o di persone in ipotermia, insomma in situazioni di grave pericolo e poi dei ginecologi, perché noi abbiamo avuto la nascita a bordo delle nostre navi di molti bambini, addirittura uno è stato fatto nascere su un gommone degli incursori, quindi abbiamo veramente avuto esperienze le più varie e poi avevamo i medici, professionisti civili che venivano a bordo a scopo di un quadro di volontariato appartenenti a varie organizzazioni e in più avevamo i medici del Ministero della Salute, quindi tutte le nostre navi erano effettivamente molto potentemente equipaggiate. Avevamo anche le cabine di contenimento per le malattie infettive molto pericolose, quindi eravamo ben strutturati. Marina Militare è ritenuta dal professore Alberto Dell'Itala una delle eccellenze italiane che si affianca alle migliorimenti del mondo in rappresentanza di un paese sempre più all'avanguardia nel campo medico e sociale. Roma è al centro del Mediterraneo dove ci sono eccellenze neurochirurgiche ma dove ci sono un'enormità di problemi. Tra questi problemi ci sono i problemi della sicurezza e dell'accoglienza. Sia il Presidente della Repubblica che Papa Francesco hanno sottolineato come l'Italia si collochi in una posizione di grande partecipazione alla solidarietà. E credo che nessuno come l'ammiraglio De Giorgi della Marina Militare, il Capo della Marina, possa testimoniare questa nostra vocazione. L'assegnazione all'Italia di questo evento scientifico è sia un riconoscimento della valenza raggiunta dalla neurochirurgia italiana ma anche una testimonianza del ruolo di primo piano dei neurochirurghi italiani all'interno della Federazione Mondiale. Grazie a tutti.